Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché al raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, si è utili a guardare, è forse proprio questo.